L'Etna, il più alto vulcano attivo d'Europa, collocato sul versante orientale della Sicilia, domina la provincia di Catania. Il vulcano e la sua lunga storia raccontano le relazioni fra l'impatto delle eruzioni, il processo di civilizzazione e lo sviluppo urbanistico. La sua maestosa figura si può ammirare anche da Cosentini, frazione di Santa Venerina. Mercoledì 23 agosto, in piazza Cosentini, si terrà un'interessante conferenza per una maggiore conoscenza dell'Etna su rischi geologici e pregi ambientali della regione etnea, organizzata dalla comunità parrocchiale Maria Santissima del Rosario di Cosentini con il patrocinio del comune di Santa Venerina. Il piccolo borgo legato indissolubilmente all'Etna, quindi, è il risultato di una lunga e complessa storia di eruzioni, caduta di lapilli e sabbia nera e terremoti, non ultimo il sisma del 26 dicembre 2018, che ha portato le abitazioni, le imprese e la chiesa con annessi locali a essere dichiarati inagibili a causa di ingenti danni. Oggi il paese sta rinascendo grazie all'aiuto degli stessi abitanti e delle somme stanziate per la ricostruzione. Apprendere la storia e le dinamiche del vulcano è importante, ha dichiarato Don Andrea Sciacca, parroco della comunità di Cosentini. Siamo in una terra viva e ricca di bellezza, ha aggiunto, nonostante i disagi che a volte porta la nostra amata Etna con i suoi fenomeni in molti paesi pedemontani. Noi spesso percepiamo solo i fastidi del vulcano piuttosto che a ricavarne i benefici. Dovremmo imparare a capirlo e ad amarlo sempre di più, ha concluso Don Andrea Sciacca.